Per la Gelbison, dopo l'importante affermazione nel derby con i cugini dell'Agropoli, arriva un'altra sfida che ha quasi lo stesso sapore. A incrociare Rosso-Blu domenica alle 14.30 ci sarà la Nocerina in un confronto che sta di spareggio per evitare di finire nella trappola play-out. La formazione del tecnico squillante non può dirsi in una situazione del tutto rassicurante, avendo solo tre punti di vantaggio sulla zona minata, mentre la Nocerina ci è impegolata e nel nuovo anno non ha ancora vinto. Per trovare l'ultimo brindisi dei Molossi bisogna tornare indietro di due mesi con il blitz compiuto sul campo del Taranto. Da allora i rossoneri del tecnico esposito hanno ottenuto soltanto cinque punti, frutto di altrettanti pareggi e tre sconfitte che li costringono ad annaspare nei bassi fondi. Nel match di andata la Nocerina riuscì a dare il primo dispiacere alla Gelbison che in un sol colpo perse gare e imbattibilità della propria porta, rimasta inviolata per 625 minuti. Per entrambe da quel momento è iniziata la fase involutiva a cui sta cercando di porre un rimedio una Gelbison che però si trova a fare i conti con il Tabumorra, dove non vince dalla prima giornata. Il derby provinciale per Uliano e Soci potrebbe essere l'occasione per vendicare la sconfitta dell'andata, riprendere confidenza con i tre punti sul campo amico e far ritrovare il sorriso ai tifosi, galvanizzati dopo il successo sul campo dell'Agropoli. Proprio la squadra tirrenica è quella messa peggio fra le tre che rappresentano la provincia di Salerno nel campionato di quarta serie. L'Agropoli infatti è il fanalino di coda. Intanto c'è da affrontare la trasferta con la Fidelissandria, forse l'ultima chiamata per tentare la risalita.